Il nostro territorio un po' per le sue dimensioni si caratterizza negli anni per questi momenti di incremento di episodi predatori. Quindi naturalmente c'è sempre grande attenzione ma spenderemo in questa riunione di domani di comitato dove oltre al comune di Ariano c'è anche il comune di Avellino, anche quello di Montoro e anche Aiello del Sabato cercheremo di mettere in campo qualche strategia ulteriore in modo da cercare di contrastare anche con l'aiuto del territorio, delle polizie municipali, del cittadino che segnali ogni situazione di pericolo una strategia migliore per prevenire e contrastare questo tipo di reati. Lo sforzo c'è, c'è sempre stato come vedete anche tutta una serie di arresti che ci sono stati, di misure, che significano che le forze e l'ordine sul territorio lavorano a tutto campo, dal Covid alla sicurezza, al reddito di cittadinanza quando non è corretto, a misure sul profilo ambientale. Quindi lo sforzo è massimo, naturalmente dobbiamo fare ancora di più. Quindi vedremo anche in termini di videosorveglianza, Ariano Irpino è destinatario di risorse per un progetto scuole sicure collegato quindi anche allo spaccio di sostanze stupefacenti, alla possibilità di vigilare meglio il territorio in alcune zone e questo naturalmente contribuisce a dare sicurezza, quindi cercheremo domani di mettere a punto delle ulteriori strategie.